Pur soffrendo nella ripresa, il Giulianova batte il Monte Giorgio ed approfittando di alcuni risultati a favore aggancia la zona play-out. Accade tutto nel primo tempo con le reti di Tedone e Barlafante per i padroni di casa e Domiccioli per i marchigiani. Il Giulianova perde per squalifica Ferrini, mentre Danna, non al meglio, parte dalla panchina. Nel 3-5-2 schierato da Abitetto al centro della difesa rientra a caso a comporre il trio con Ancinelli e Demoleon. A centrocampo Cipriani è l'uomo disegnato per impostare la manovra. In avanti conferma per la coppia Paudice e Barlafante. Nel Monte Giorgio assenti per squalifica Perini e Mantini per impiazzarli, Mr. Meng opta per Ficola al centro della difesa e Trillini come Mezzala. In avanti Gioca Lupoli con Cucù che si accomoda inizialmente in panchina. I giallorossi provano immediatamente ad indirizzare la gara sui binari giusti con un cost-to-cost per vie centrali di De Cerchio con Zizzania che si salva in due tempi. Buono l'impatto sull'incontro per gli uomini di Bitetto che protestano per un presunto falo da rigore ma per Bortolussi si può proseguire. Il Giulianova spinge e trova il vantaggio al decimo minuto. Fondamentale il movimento tra le linee ad aprire la difesa di De Cerchio il quale appoggia Paudice con la conclusione di quest'ultimo respinto sulla linea ma sui piedi della corrente Tedone che con il piatto mette in fondo al sacco. La prestazione del Monte Giorgio è impalpabile. I giallorossi potrebbero approfittarne prima della mezz'ora quando dopo una ripartenza ancora orchestrata dal 2 Paudice De Cerchio la palla arriva a Tipaldi che incredibilmente da pochi metri tira addosso al portiere. Continua il buon momento dei padroni di casa che si portano sul 2-0. Tipaldi è capabile a continuare la sua corsa inducendo all'errore Zizzania con la sfera che giunge sui piedi di Barlafante. Per il numero 10 un gioco da ragazzi mettere in fondo al sacco. Il doppio vantaggio però dura solamente una manciata di minuti perché il Monte Giorgio alla prima conclusione verso la porta abruzzese va in gol grazie ad una prodezza balistica da 20 metri di Capitano Miccioli. Ad approcciare meglio la ripresa il Monte Giorgio bravo a palleggiare palla a terra cercando di approfittare di un Giulianovo un po' rinunciatario come al quarto d'ora quando Pampano sfonda sulla destra e pesca al centro dell'aria Lupoli sfortunato a colpire il palo alla sinistra di Mora. Premi ancora la formazione marchigiana che continua a rendersi pericolosa dalle parti di Mora con il difensore Gnaldi ma anche lui da pochi passi mette incredibilmente fuori. Bitetto prova a cambiare qualcosa ma a rendersi pericoloso è ancora il Monte Giorgio con Lupoli che a botta sicura dal centro dell'area di rigore mette sopra la trasversale. Per vedere la prima conclusione verso la porta di Zizzania in questa ripresa bisogna aspettare addirittura il 27esimo quando Paudice fa tutto bene liberandosi di un uomo in area di rigore poi però decide di calciare in porta quando in mezzo erano liberi alcuni compagni di squadra. Lo stesso Paudice un minuto più tardi dopo una lunga progressione libera ad Anna che si fa murare la conclusione dalla difesa. Nel concitato finale di gara vengono espulsi Mister Bitetto e poi De Cerchio per doppia munizione per domenica prossima in dubbio la trasferta di Aprilia. Come si dice di solito l'importante era portare i tre punti. Nel primo tempo noi potevamo anche fare molto di più e non subire anche la rete perché è stata anche su punizione una punizione che sinceramente ho qualche dubbio sul suo fallo, sul fallo del nostro. Poi nel secondo tempo siamo calati, la differenza tra noi e loro oggi è in dubbio, è l'aspetto anche fisico, atletico. Noi sono tre settimane che non giocavamo, oggi si è visto. È chiaro che all'inizio sei pimpante, sei veloce, poi col tempo ovviamente cali, tant'è vero che alla fine diversi dei nostri hanno avuto anche dei campi. La vera differenza è soprattutto questa, è un donor del vero, il loro nel secondo tempo hanno avuto quelle due o tre occasionissime dove potevano anche pareggiare. Però se avessimo fatto qualche gol in più noi, perché ne abbiamo avuto le occasioni sia nel primo ma anche nel secondo tempo in altre partenze, sarebbe stata una partita diversa. Si potrebbe non giocare anche domenica ad Aprilia ma detto questo, punti importanti perché con i risultati degli altri campi che sono anche a favore del Giulianova quest'oggi, il Giulianova reggancia la postazione nei play-out che a questo punto si potrebbero giocare. Ci sono tante possibilità di salvezza. Sì ma noi, l'ho sempre detto, noi dobbiamo cercare di racimolare più punti possibili nella maniera più assoluta. Lo dobbiamo fare sia giocando bene come abbiamo fatto in tante altre partite, come anche nel primo tempo e anche soffrendo così come abbiamo fatto nel secondo tempo. D'altro canto noi siamo terzo ultimi classifica, voglio dire. È chiaro che non stiamo dimostrando assolutamente di valere questa posizione, però a volte vincere anche soffrendo fa anche bene. Abbiamo sbagliato i primi 25 minuti, è un peccato perché poi abbiamo preso gol su due situazioni, secondo me anche facili di lettura. Peccato perché dopo il 2-1 penso non posso rimproverare niente ai miei ragazzi perché hanno dato tutto, hanno creato tantissimo. Era normale che potevamo subire qualcosina in contropiede, invece neanche abbiamo subito tanto. Peccato perché abbiamo creato tantissimo e se avremmo pareggiato avremmo rubato assolutamente niente, però accettiamo il risultato, cerchiamo le ferite perché secondo me non meritevamo questa scuola.